Sua maestà la Cozza Tarantina, da aprile 2022 per esiglio Slow Food, si conferma eccellenza del territorio. Quest'anno la produzione locale di qualità elevata, complice la temperatura del Mar Piccolo, che, salvo imprevisti, potrà consentire, già entro fine mese, uno smaltimento della produzione tra gli 80 e i 100 mila quintali. Tuttavia ci sono delle criticità che possono minare gli equilibri produttivi e commerciali della Cozza Tarantina. In primis il fenomeno della reimmersione delle cozze di provenienza greca nelle acque del Mar Piccolo, prassi vietata da un'apposita ordinanza sindacale. A questo proposito abbiamo raccolto il parere del presidente dei mitilicoltori di Confcommercio Taranto, Luciano Carriero. I mitilicoltori si sentono beffati perché c'è un'ordinanza emanata dal Comune nel 2022 che non viene rispettata. A noi tutti i giorni ci arrivano segnalazioni da parte dei mitilicoltori di quello che avviene. Noi chiediamo fermamente e urgente controlli da parte delle autorità, guardie di finanza, polizia, capitaneria di porto, chiediamo aiuto. Arrivano queste cozze griche, vengono immerse nel nostro mare, li tolgono lo stress del viaggio e poi viene venduta per prodotto autoctono. Quindi non è possibile e accettabile una cosa del genere. Ma una boccata di ossigeno per i mitilicoltori arriva dalla unificazione delle concessioni per le attività del settore, a cui si è giunti attraverso un percorso di collaborazione con il Comune di Taranto. Ancora Luciano Carriero. Con il Comune di Taranto ogni mese ci riuniamo in un tavolo tecnico con l'assessore Ciracè e sta dando i primi frutti. Questa operazione dell'unificazione delle concessioni è un sospiro di sollievo per i mitilicoltori che sono costretti ad avere più titoli. In questo modo due, tre, quattro piccole concessioni vengono unificate pagando soltanto un canone.